Un ruolo decisivo più che mai ora lo ha la testa, più delle gambe e della condizione atletica. Parte tutto dalla testa perché dopo una batossa del genere è difficile rialzarsi, inutile nasconderlo, inutile girarci intorno. Sono passati tre giorni ma il tempo sembra essersi fermato a domenica sera e a quel gol di Minala al 95esimo. Le porte chiuse, il silenzio che è calato non ha aiutato a capire come è stata vissuta la sconfitta con la Salernitana, però possiamo lecitamente immaginare che la ferita sia sanguinante nello spogliatoio dell'Avelino come in tutti gli angoli della nostra città. Il motto, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, resta il proverbio migliore da utilizzare in casi come questo. Di duri però negli ultimi 20 minuti di domenica sera non c'è stata neanche l'ombra. L'unica speranza che resta in questo momento è quella di affidarsi all'orgoglio e alla voglia di riscatto dei singoli. Dopo un K.O. i cui segni saranno visibili per lungo tempo. A Pescara per l'Avelino è necessario ritrovarsi senza se e senza ma, rialzare la testa dopo averla recuperata, abbandonare paure e limiti avendo la capacità di reagire. Cosa che non è successa con la Salernitana né a Bari, ma che invece era accaduta alla prima con il Brescia e con l'Empoli. Il primo a dover mantenere la calma e la concentrazione, Walter Novellino finito giustamente sul banco degli imputati insieme a tutti i calciatori. Visti gli impegni ravvicinati e difficili che attendono i lupi da qui alle prossime settimane, il turnover è obbligatorio. Difficile il recupero di Morosini, le cui condizioni verranno comunque valutate nelle prossime ore. In difesa al posto di Migliorini verrà rilanciato Suager, mentre in attacco probabilmente troverà spazio a Senzio, ancora a secco di gol, che farà compagnia ad Ardemagni, che da tre giornate si è fermato e non esulta più. A centrocampo i dubbi maggiori, con Moretti che scalpita per tornare a trovare un posto al sole. Di Tacchio e D'Angelo sono palesemente stanchi, la Verone non è brillante, mentre Bidaoui vuole ritrovare continuità, senza dimenticare Molina, che a sinistra non è incisivo come a destra. Le possibilità di cambiare ci sono e come a Walter Novellino il compito di fare le scelte migliori, dopo aver ritrovato però la testa.